Salve amici del Centrometro Italiano. Tempo instabile in Italia con piogge sparse e neve a quote man mano più basse. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 19 gennaio. Al mattino nevicate fin verso i 400 metri sulle Alpi Occidentali e sull'Appennino Settentrionali. Possibili acquazzoni special sud, mentre piovigini sparse bagneranno Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Condizioni di tempo instabile anche al pomeriggio sugli stessi settori, salvo una piccola tregua sulle regioni meridionali. In serata e nottata, precipitazioni sparse ancora su Liguria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia. Neve sull'Appennino Settentrionale fino ai 300-400 metri. Per quello che riguarda le temperature, sia le minime che le massime, sono attese in generale diminuzione. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sia sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.